Positivo l'export nella provincia di Verona, tanto da registrare un più 3,45 in alcuni settori, secondo il report 2013 della Camera di Commercio presentato oggi. Nel veronese le imprese sono quasi 89.000, nel 2012 si sono iscritte al registro delle imprese in 5.842, mentre ne sono cessate 6.129. I settori che vanno bene sono quelli che da tanto tempo mantengono queste posizioni, in particolare per quanto riguarda l'agroalimentare, per quanto riguarda il vino, e devo dire che siamo stati molto contenti di vedere come anche il marmo e anche il mobile hanno recuperato delle posizioni. Il dato positivo dell'export fa i conti però con la crisi e un mercato interno difficile, a causa anche di una burocrazia troppo pesante per le imprese. Confronto però del più 3,4% del mercato internazionale, dobbiamo riscontrare un meno 5% del mercato interno. Quindi vuol dire che la difficoltà è per quelle aziende che rivolgono i propri prodotti al mercato nazionale. Quindi due dati contrastanti, se vogliamo, che confermano però quella che è l'impostazione che occorre oggi dare, è quella di investire in internazionalizzazione con tutte le decisioni del caso che bisogna prendere. Cosa vuol dire fare impresa in tempo di crisi? Lo sanno alcuni giovani under 35 che hanno portato le loro esperienze all'incontro, come Enrico, socio in un'attività che vende le grise, le galline dell'Alessinia, e Federico con una società agricola in Valpolicella che segue tutta la filiera del vino. Avete avuto anzi delle agevolazioni? Al momento no, nel senso che siamo partiti noi con le nostre forze e stiamo portando avanti questo progetto contando su noi stessi perché siamo proprio appena appena partiti. Sono qui come rappresentante di una piccola azienda familiare, l'azienda Viti Vinicola in Valpolicella Classica, nata da poco come realtà imbottigliatrice, pur avendo una storia abbastanza lunga da un punto di vista di produttori di vino e di lavoratori del nostro vigneto. Grazie. 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 Grazie.